Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft Mod Siamo sulla Moderscape Block 3 e ho fatto una vagonata di cose Allora andiamo a incominciare questo, ho quasi svuotato tutto ma ho fatto tanto di quell'avanti e indietro Ho cercato di sistemare in basso, togliendo la roba sotto, poi rimettendo la somma, poi riordinando Insomma ho fatto un gran casino E ho fatto questo, questo mostro di roba Sono una, due, tre, quattro, cinque, sei fornaci della Giacomo Fondry E qui è già finito, meglio spostare un po' di roba Per smeltare tutta questa roba qui perché era veramente tantissima Era una vagonata di roba Sto mettendo, guardate, tantissime, tantissime, tantissime cose in più Anche questa, anche questa sta lavorando, quindi c'è anche la smelterie Guardate qua quanto ferro, mamma mia, non so che dovevo buttarlo Quanta roba che c'è, guardate, è dato salace al coso Guardate, 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 cioè io non so più veramente cosa fare Ditto, questa roba qui è veramente tantissima E questa ancora non sono riuscito a fare il travaso perché sto aspettando Come vedete manca pochissimo Questa qui è roba da smeltare, questa parte di questi due coi Qui è questo e tutta questa roba qui che è quella rimasta In pratica una volta che avevo smettato tutto rimarrà proprio queste due massimo tre righe di roba Quindi posso fare il travaso senza problemi Qua si sta riempendo, lo sapete perché? Riempendo, siamo un po' più della metà, lo sapete perché? Perché ho fatto una sorpresa Ho ampliato leggerissimamente la mob fam In modo che arrivasse un pochino, ma proprio un pelino più di mostri Cioè una cosa continua in pratica È mostruosa, guardate È una cosa incredibile L'ho fatta così Dai, è carina, è bellina anche a vedersi Non è malo Dentro ci sono tutte le vector plays che ho dovuto fare delle altre Ho dovuto fare 6 stack totali Tra due le avevo già O tre ne avevo già, non mi ricordo Comunque 6 o 7 stack ho usato Adesso non mi ricordo esattamente Se devo essere sincero non sono segnato Però sì, ne ho fatta parecchia E niente, praticamente vengono da tutti questi quattro lati Convergono al centro Che il centro non l'ho cambiato Esattamente come prima Potevo allargarlo in effetti Ma l'ho ottenuto così Perché devo fare altre spike Non mi andava Comunque sì Ah, chi è? Io non so perché sono così forte Che a mano nuda riesco a ammazzare chiunque Deve essere dei bonus passivi Di qualche armatura O di qualcosa Perché io riesco a ammazzare a mano nuda chiunque Con due colpi E quindi Bene, no? Insomma, guardate Quando cadono Incominciano a cadere Una vagonata di cose Ed è continuo Continuo, guardate Guardate, guardate Poi sono qui vicino Se mi allontano È una cascata proprio È una figata E quindi sì Ne sta arrivando a rotta di collo Sentite Non so se sentite Ma tanti, tanti Ne cadono tantissimi Proprio a valanghe A cascate proprio E quindi sono abbastanza soddisfatto Se devo essere sincero Qui ho cercato di sdoppiare Il più possibile Vito che ci ho messo Vedete in alto a sinistra Il contatore qua Vedete che quanti giorni ci ho messo Ci ho messo tanti giorni di gioco Intendo Qui potrei ancora sdoppiare Perché tanto Non è difficile Basta fare così E lui lavora Siamo già pieni E quindi sì Ho fatto altro Non mi ricordo Perché non ho fatto così tante Di cose Ho cercato di buttare Abbattere un po' Questo coso qui Che eravamo a 150 160 Adesso siamo a 93 Però Non è uscito un cazzo Una cinquantina di stack Di roba Di quei cosi Dove che anche io sono Si ritrova Ed è uscito Considerando che questa roba qui Già ce l'avevo È uscito Questo Cioè Una cinquantina di stack Ma è proprio una schifezza Quindi Non è che ne valga Proprio la pena Però è gratis Più Che altro È l'acqua Metterla Togli e metti Togli e metti Ho messo più di questi Così almeno Vado qua Faccio qui Faccio là Vado avanti Indietro 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 Finché non finisco Poi rifocillo tutto Rimpingo tutto Sono abbastanza soddisfatto Sì e no Perché comunque questa roba La vorrei fare automatizzata Ma prima di farla Ci vuole Tanto Tanto Ste galline devo togliere Perché ormai Le piume me ne ha fatte tante Di uova Lasciamo perdere Che ce n'è per Dieci castighi Potrei uccidere tutte E queste uova Sperando che escano Un po' di animale O li metto lì Nella mia riserva E Viete Ho svuotato Quella cesta lì Mettendo tutta la roba Che ho potuto qui dentro In queste ceste Come vedete C'è un po' più di roba Perché Non ci stavo più Ragazzi Quegli ingotti Non ci stavo più E quindi cosa ho fatto Vedete Ne ho aggiunti alcuni qui Due Solo questi Tre Mi sembravano Io mi ricordavo tre Io Mi sono perso il terzo Non l'ho messo Non avevo voglia Boh non mi ricordo Ho messo Zero Steel Che il Bass Che sono quelle lì Che comunque useremo E gli altri Non ne ho proprio idea Perché fino adesso Qui non ci sta chiedendo un casso E quindi Non lo so Come ragioni Assine Gemma Che stiamo per fare adesso Usa solo i suoi Di gemme Quindi Non ne ho idea Di questi lingotti Sinceramente Questo pack È diverso Da tutti quelli Che ho cercato Precedentemente In cui si doveva usare Una quantità Di materiale primario Di minecraft Cioè Ferro Oro Diamanti Ossidiani Eccetera Devastante Invece qui Se ne usa Praticamente mai Quindi Non lo so Io Mi sono preparato Poi vedremo Siccome siamo a metà pack Vediamo un po' Cosa ci aspetta Questa cesta cesta Spero di non impilla mai Perché se devo fare Lo stesso lavoro di prima Di questa piccolina Che ho fatto qua Ci perdo tutta la vita Io qui Ho messo Da riciclare un po' di roba Ne ho 1400 Basi Quindi Pensate voi Quante ne abbiamo Qui ne abbiamo 25.000 Quindi Insomma No scusate Questo che devo fare Qui Ok Insomma Non so esattamente Se da contare queste Che poi Fumo Molta roba L'ho scremata Come vedete Ci ho messo il filtro là Però insomma Ce la fai prendere la grazia Ce n'è ancora Ancora Comunque Io quando ho iniziato Il mospone Eravamo più o meno così Facendo il mospone In due ore Ho fatto Cioè Ho fatto così Ed è una Colossal cesta Di ossidiana Vi rendete conto Cioè Non è Buscolette Ed ha 4 slot Poi Quindi si Abbastanza bene Qui Come prima Ah Togliendo tutta la roba È rimasto questo Ovviamente un po' Ce n'era già di prima Come già sapevate Però Ce n'è anche un po' Di nuova Queste qui E di nuova Praticamente c'era Un Mezzo Mezzo slot Mezzo stack Più Queste qua Che sono tutte nuove Che c'erano lì dentro Non è che le ho inventate io Insomma Quindi Questo Questo coso Qui mi inquieta Due colpi Gli uccidi Io non so come faccio A essere così forte Sono morto Perché è andato un attimo A FK È andato a pranzo Ma quando sono tornato Ero morto Perché ogni tanto Qualcuno scappa da sotto Devo chiudere Lo so E quelli piccolini Mi massacrano Perché sono potentissimi C'è la meccanismo Sapete che con la meccanismo Sono sempre mega super armati E la Silent Jam Aiuta anche Quindi sì E niente Va bene Io vado avanti Perché devo fare quella roba Della Silent Jam Ma mai penso di farla Finisco di smeltare Sta roba qua Per svuotare E tolgo questa cesta La tolgo Così Abbiamo più spazio Questa La vorrei spostare Ma non posso Perché è troppo satura Ci mettono un'altra vita Perché dove togliere Tutte le loot bag E mettele in quella lì Che me ne fa A singole E quindi si fa Si fa Perché si fa Questo è molto istantaneo Si mette Lui la prende Tanti saluti Però devo stare Altre 2-3 ore Capite E più Il mob spawner Qui deve fermarsi Insomma Non lo so Adesso ci penso Perché volevo sistemare meglio Volevo fare Questa qui Ingrandirla E magari metterla Non so qua Farla Adesso a 4 La faccio da 8 10 non ce la faccio Ragazzi Impossibile Perché devo fare Un sacco di diamanti Quindi la farò Da 6 6 la posso fare Perché non Mi serve tanto Ossidiana Perché qui Con un crafting Ne fai 1 Quindi con 8 Faccio un blocco In più ci vogliono 8 diamanti Cioè Per fare un blocco Ci vogliono 8 e 8 Quindi 16 8 non è un problema Di questi Ne ho 30 stack E questo Il problema è questo Ne ho 18 stack Che non è tantissimo A meno che Non sia uscita da qua Ma dubito Perché di solito Si esce nelle loot chest Non esce nei mob drop Normali Infatti non ne vedo E quindi Devo continuare a prendere Lo loot chest E sono un casino Veramente un casino Va bene Detto questo pistolotto Voglio continuare La sign Fare quello che avevo detto Del secondo Terzo Quarto slot Che sto andando Non so mi sto perdendo C'è due porte Mi perdo lo stesso Allora Era questo il problema Che devo fare La sign Adesso Mi da tanta energia E quindi farò Il potenzialmente Di questo Scusate Sbaglio sempre Di questo Lo porto capacità 4 5 Non mi ricordo Se 4 o 5 Doveva essere tra gli 8 O i 16 milioni Non ricordo mai Se 8 o 16 Avevo letto sul sito E una volta fatto questo Con questo Siamo a posto Perché qui abbiamo Una carica di 1 milione Più qui abbiamo Un minimo 8 milioni Quindi Sì Cioè Questo sarebbe Bello La sign Di gemmi In un open world Che non sia Una skyblock Sarebbe veramente Fantastico Perché ti permette Di volare in creativa E di andare velocissimo Quindi sì Sarebbe fantastico Quindi purtroppo È molto limitato Per quanto io possa ingrandire Sarà sempre Comunque limitato A una zona Un'area Quindi Sì Però Già con questa armatura qua Che io già Plano È già molto Se non avessi avuto Queste armature Da planare Sicuramente La signora di gemmi Avrebbe Questo diamanto Questo monilo Avrebbe avuto più Più senso Di esistere Però sì Dai Insomma Va bene Ok ragazzi Faccio un taglio Ci vediamo dopo Allora ragazzi Fino di continuare Voglio far vedere La piccola modifica Che ho fatto Così almeno L'ho automatizzato In teoria Si dovrebbe fare diversamente Però Per mancante di spazio Ho voluto fare così Siccome adesso Non la uso Io ho messo Un Drawer Con sopra un bonsai Hopper Che mi fa Gli alberi Praticamente Lui lo metterà qua dentro E piano piano Userà quelli Non è efficiente Nel senso che Non è che non vada Va benissimo Il problema è che Sarebbe meglio Mettere la carbonella Quindi mettere Una fornace Direttamente qua Che così Con un hopper Che gli va a mettere Un bonsai hopper Con legno Sotto il drover Del legno E che vada Direttamente alla fornace Un altro che invece Vada ad alimentare La fornace Sempre con questi Quindi due di questi E' una fornace Che la fornace Farà al ciocco Che andrà direttamente qui Così sarebbe stato Più efficiente Però molto più dispendioso E molto più ingombrante Insomma Non è che mi sarebbe Piaciuto tanto Come setup Così è più carino Il bonsai di sopra Non si vede Se si vada fuori Si vede Mi piace di più Se devo essere sincero Visto che per il momento Non ho tutta questa Esigenza di botania Vedete Bellino E' carino dai Carino anche qua E anche qua Dov'è? Qui Quindi Ho voluto far così Perché Per mancante di spazio Per mancante di tante Tante cose Ma anche per Estetica E' più carino Diciamo che così dai Più bello A vedersi Che a farsi Non era quello Che volevo dire Comunque Si Avete capito E vabbè Un setup Così Qui ho staccato il Cosa Perché mi consumava Quel spread Qui Questo qui Lo spark Quindi mi aveva esaurito Tutto quanto Il carbone Che avevo messo qui Con tanta fatica E si Questo Con molta calma Li fa Ma per adesso Non li usiamo Quando li useremo Ci sarà sicuramente Minimo 32 stack Dato che sicuramente Ci sarà una minima 32 stack Di questi ne ho fatti un sacco Prevenire è meglio Che curare Quindi si E facciamo così Tanto Almeno così Lui si carica Bello 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 Tanto per quando ci andrò Sarà tutto a posto Qua sto continuando A fare Ho messo un po' a posto Tutto le gallinaia Il piccioname Lì Cos'era Quel casino Ho preso Vedete che mi manca Uno stack L'ho messo qua A fare E ho fatto anche questo Perché tanto Già che c'ero Ho messo questo qui A fare Più questi qui E lui sta facendo Con calma Dovrei mettere Un hopper Che mi toga Questi Ma non c'ho voglia Nel senso che Insomma Devo cambiare un po' Il setup Fare un po' Di cambiamenti Devo fare un po' Di cose Qua E vado a fare queste cosine Prima di continuare Perché voglio continuare Con la science gem E fare La nuova mod Anche Naturalmente la science gem Ancora non l'abbiamo fatta Bisogna dirlo La faremo Bene Perché la voglio imparare E se no Non c'è gusto Doviamo finire anche La control edition Ma la faremo anche quella Alla master chef Che veniva prima Della science gem In effetti Volevo fare questa A meno capirla Questa mod Che Di cosa parla Questa mod Non me lo dici Che mod Vuoi affrontare Non me lo dici Basata su Palmarvest Craft E beh Quindi dai Interessate Si cucina In pratica C'è un fornetto Che carino Dai La voglio fare A meno Cercare di capire Perché insomma Non ho mai giocato E quindi si Sarebbe anche ora Quindi mi sistemo E ci vediamo dopo Allora ragazzi Fate un po' Di cose Adesso vi faccio vedere Ho messo un po' Di luce qui Perché gli enderby Mi stavano frottendo Tutti quanti i blocchi E mi stavano rompendo Tutte quanti le Coltivazioni Quindi ho messo Queste luci così Dai Che carino Vedersi Non è male Fa abbastanza luce Forse lì Ce l'è un po' Di meno Ma dopo vedrò Bene come fare Per andare avanti E nel Qui ho messo A posto campetto Con un coso Con un oggetto Utilissimo Praticamente Rienchiude le anime Degli animali E Ne può tenere Fino a 4 Mi sembra E così ci possiamo fare Le riserve Senza problemi Tenendo al sicuro Gli animali Vi faccio vedere con cosa Si fa con questo Se vedete qui ci sono Tre maiali Tre Mucche E due pecore Ma ne ho tanti Di questi Quindi sì Ho messo un po' A posto qua Ho messo Di sotto Un altro Un altro E dicevo Ho messo Un controller Sotto Vi faccio vedere Tac Ho smontellato qua E ho messo Un altro Interface Ci ho attaccato All'interface Ci ho attaccato Il Il Cosa Mi si chiama Questo Qui Per fare un po' Di Di Per ricicare Le bug Quelle grosse E fare le piccole Ero arrivato a 45.000 Una nuova del genere Quindi infatti Stiamo risalendo di brutto Ne sono rimaste 30.000 Quindi 30.000 Più quasi 30.000 Mi sono 60.000 Una cosa esagerata Quindi sì E quindi ho fatto Un sacco di bug Allora Cosa ho fatto adesso Ho usato questa Grandissima E bellissima Road Che Che Dicevo Mi crea La cosa La terra O così Avevamo terra gratis Usando pochissimo mana E Non male Non male Cosa ho fatto Dicevo Ho fatto questo Perché mi sembriva Questo Sapling Qui Che quindi Ho smantellato Ho fatto crescere Con un po' di Fertilizer Fatto con Sabbia E Apatite E Perché Perché Per andare avanti bene Con la Silent Jam Che ancora sto studiando Quindi Volevo fare prima Queste cose Qui Perché ci aiuteranno Parecchio Allora L'Agri Garden Si fa con la caccia Con la caccia Questo qui Si fa con la caccia Vedete Ci vuole Le seppie Le foglie di La caccia Per fare questo Con questo Quindi ho preso Le mie Shears infinite E Ho fatto Ho preso Il jungle Perché col jungle Grazie alla botania Possiamo Trasformarlo In La caccia Sapling Quindi Si Adesso rompiamo qua Che verranno i mostri Infatti È venuto Tac È morto Perfetto Quindi abbiamo Terra infinita E questa è una cosa Molto buona Perché farla Era un po' una maletta E quindi si Abbiamo messo qui Un coso apposta Così siamo apposta Ne abbiamo 100 E passa Dunque Botania Botania Intanto La Silent Jam La Silent Jam L'ho molto portata avanti Nel senso di Questi Ne ho abbastanza Penso Bastino Spero Bastino Dovrebbe essere Finito Sì è finito 16 Siamo morti qua Perfetto Mettiamolo a posto E siamo a posto Quasi 4 stack Quindi più che sufficiente Andiamo alla nostra cara Vecchia Botania Che adesso ci aiuterà parecchio Vediamo di fare questa trasformazione Non ricordo se era qui o là O sì O non era qui Ok Forse qua E anche qua Oh cavolo Ho fregato un coso Ecco era qua Perfetto Arriviamo tutti Quindi non manchiamo sicuro Qua come siamo messi Vediamo un pochino Beh 135 Buono 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 Mi fa piaciore Che così almeno Anche se fa poco Resa Comunque è sempre Una cosa in più Ed è gratis E quella è la cosa più importante Quindi adesso Abbiamo la caccia E cosa facciamo Facciamo l'altra fila di prima Con la bella Land La striscia di mana E al massimo Quindi non dovrebbe avere problemi Di sorta Quindi sì Facciamo così Facciamo così Ma io penso che Cioè uno Per uno Va bene anche troppo Vai Vediamo un po' Tac 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 Ma sei La miseria Ma siamo sicuri che è quello Il sapling Giusto Vediamo un po' Con questo Ecco qua Non c'è più niente Perfetto Adesso lo rompiamo Tanto abbiamo il piccolo infinito Che se ne frega Insomma Eccoci qua Abbiamo preso un bel po' Di roba Adesso rompiamo anche questo Tanto abbiamo il piccolo infinito Insomma Sì Adesso te muori Di brutto Oh porca miseria Sei cresciuto Eh ma come fai a crescere così tanto Ne ho preso il diaga qui Eh sì ma esagerato Sì ma siete troppo esosi Oh Morite Eh cavolo Hai fatto una crescita esagerata Vediamo un po' Un sacco di questa Che non mi serve più niente Una bug Terra Che metà me l'ha mangiata Allora Avete detto che dobbiamo usare Per fare questo Il grinder Qualsiasi grinder Giusto Allora Vediamo il grinder Dove l'ho messo Se ce l'ho ancora Dovrei vercelo Esatto Ho il compressor rock grinder Quindi dovrebbe essere la stessa cosa Vediamo se è vero Perché non ne sono sicurissimo Che si faccia così Uh Compressor grind rock Quello che ho io Sulla caccia libs Ah il 25% Adesso ho capito Ok Ok Mamma mia Che schifezza Allora Facciamo così Ho già capito Che qui sarà Molto dura Ma guardate quante mob Una cascata di mob Sta arrivando Vediamo un po' così Adesso ci penso io Vedate Guardate che faccio Con la guanda E tanti saluti al pifero Insomma Sì Sì Però magari la usassi Sarebbe anche l'ideale Insomma No Mamma mia L'ho usata malissimo Però l'ho usata Ok Adesso vediamo questo 25% Sì sì Trasforma in qualcosa di più buono L'ho rotto Oh però Mi hai dato una caccia Meglio di niente E non mi ha dato nulla Ragazzi Tre cacce Ma non mi ha dato niente Mi sembra un 25% Un po' Un po' Fra blocco Allora Non devo usare la compressed Ma la grind La grindstone normale Perché lui ha la stessa usabilità Quindi usura Quindi No Cosa sto facendo Sto facendo il giro Nel modo di 80 giorni Allora Vediamo un po' Qua Così E qua Così Il grindstone Lo facciamo Sì Se me lo facevi in Ecco In stone L'avrei gradito di più Non ho gli stick I stick sono pieno Come faccio a non averli Ho sbagliato Qua Quindi era così E così Sì Questa è la guanda Così Ecco Scusate Ok Ma non mi fido lo stesso Ve ne farei degli altri Perché se continua così Di sto passo Faccio Notte Leaves Mi tocca ripiantarli E fare gli altri leaves E purtroppo Se è vero Che c'è una progettura così bassa Ci sarà da ridere Solo leaves Eh Ma siamo sicuri 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 Ci vuole il compressed Per forza Ci vuole il compressed No Ci vuole anche questo È sempre un 25% Sulla caccia leaves Riproviamoci Allora One dalla mano Eccoci qua Mamma mia Che casino Che fanno quei mob dietro Allora Io adesso le pianto Tt5 Ecco qua Facciamo così Usiamo il nostro Bel Coso Vediamo se abbiamo Un po' di fortuna Ma A questo punto Non è dubito Però Proviamoci Se lo prendi Grazie Molto gentilo Ok Fatto Adesso rompiamolo Io attiverei anche questo Grazie Ok Qua Mi hai preso Tutti i septi In vero per terra Ah no Meno male Allora Andiamo qua Oh Ho fatto presto Andiamo un po' Niente ancora Cioè niente ancora Ci vuole un altro po' Ok Adesso Facciamo questo Vai Ok Facciamo questo Perfetto Così Ok Meno male che è infinita Se no ci mettevamo Veramente troppo Cioè Dovevamo fare Veramente tanti Vediamo Se si dà una mossa Eh ma Cioè Proprio una schifezza Mamma mia Che schifezza C'ho anche poca vita Devo mangiare Poca fame E ecco qua L'ultimo Speriamo Che ne venga fuori Abbastanza Insomma Un po' Una schifezza Una schifezza Un po' Ecco qua E adesso Facciamo questo Qui che è l'ultimo Vai Perfetto Allora Mangiamo Dove avere ancora Qualcora Sì è qua Grazie Molto gentile I mobi Mi stavano Incentrullendo Lì Ok Vediamo di Togliere sta roba Figuriamoci Prima che crescano Come non detto Eh la miseria Ma cos'è sta roba Siete troppo esosi Eh Se non si può così Ok Eh ma allora Ok Quanta roba ho preso No per sapere Mi sono preso mezzo Milione di roba Qui Allora Vediamo un po' Così così Questo non mi interessa Questo non mi interessa Non mi interessa Non mi interessa Non mi interessa Perché sto prendendo Tutto il mondo Se no Cosa Io l'avevo disattivato E l'ho riattivato Mi sembra più che giusto Ok Questo lo togliamo Questo lo mettiamo Questo lo mettiamo E siamo a posto Ok Bene Allora Devo riprovarci Se non ci riesco Guardo una guida Perché mi sembra molto strano Il 25% Non è il 1% Insomma Dovrei riuscirci A prenderne uno Lo stesso Allora Vediamo un po' Ok Guarda la mano Guarda la mano Perfetto Direi che così È più che sufficiente Adesso devi uscire Però Non Mi dire di no No Mi sta togliendo tutti È stata una brutta cosa Che ha fatto E non ha dato neanche uno Niente Guardo un video Guardo un video Perché non è chiaro Lui mi dice che Devo usare Il rock grinder Su La caccia leaves A meno che Non debba farlo Sull'albero Può essere Proviamoci Magari è quello Il problema Che deve essere Per forza Sull'albero Vediamo Perché Tutto è possibile A questo punto Mi viene in mente Solo quello Proviamo Ok Cosa la mano Ok Sì no Questo Grazie Grimstone Perché potrebbe essere Anche quello Il problema Niente Mi hai dato niente Riproviamoci Capisco che la percentuale è bassa Però No Non ci siamo Niente Dai guardo una vita E vi faccio sapere A dopo Allora la guida dice Che se usiamo quello In diamante Abbiamo una percentuale più alta Anche se non c'è scritto Vediamo se è vero Perché a questo punto Boh Non lo so Vediamo cosa mi ha dato Me l'ha dato Aveva ragione Eh bene 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 Mi fa piaciore Fantastico Eccoci qua Eh questo me l'ha dato Quindi se io adesso Andassi Dove cacchio sto andando Andassi qua Eh mi dice completa Vai Forest garden Vediamo quella dopo Forest garden Ho scritto malissimo Vero Gradnet era Forest Mi sono dimenticato Garden Ah frost garden Scusate Ho scritto male Non forest Frost Garden Quindi Il albero del freddo Si vuole Eh sempre Consiglia sempre Quello di Eh Xul Spruce leaves Lo spruce Già qual è? Eh Lo spruce Lo spruce Ce l'avevo Spruce leaves Allora Spruce No si chiama Seapling Ok Seapling Ok Spruce vero? Spruce 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 Seapling Spru Spru C'è Ho scritto più bene Allora Io in tutto questo lo cancelliamo Cosa ho scritto? Allora Ecco Adesso ci siamo Ok Non so Perché Vabbè Ce l'ho Ne sono sicuro perché l'ho preso in passato Questo è meglio Ma no Così Fare così Ce l'ho perché l'ho preso in passato Quindi facciamo il potere della T Non c'è niente qui Fantastico Vediamo se c'è qui No C'è ce l'ho Ne sono sicuro Dai Ne sono più che sicuro che ce l'avevo Ma non mi ricordo bene dove l'ho messo Quindi si Red Plus septi No Questo qui Ah C'avevo il red invece Vediamo un po' Non lo vedo Ragazzi aiutatevi Perché io Sono cieco proprio Non lo vedo E' strano però mi dice che è qui E se dice che è qui Desert a caccia sapling Perché desert a caccia sapling Allora vediamo un po' Magari mi sono confuso Non lo vedo Continua a dire che qui A meno che non sia No è proprio qui Io qui non lo vedo Sarò cieco Sarò sicuramente cieco Ma qui non lo vedo Vedo il desert a caccia sapling E la caccia sapling Questa è bella Allora vediamo un po' Se riesco Red sapling Surps Ancno Geonime Quindi io questo non ce l'ho No ma ce l'ho Sicuro che ce l'ho Devo solo trovarlo Quello è il problema Allora mi metto a cercarlo Però Ragazzi io sono sicuro Di avercelo Perché me lo ricordo bene bene Perché mi ricordo che avevo fatto la prova Per vedere se cresceva In primi episodi Se cresceva appunto Quello grande E non è mai cresciuto Vediamo un po' Qua se c'è qualcosa Qua non c'è Allora Altre casse Sono di qua Adesso hai Cercare la cassa perduta Perché Vediamo un po' Qui Questo è un Ferros Non so quale sia Qui E c'è il Dark sapling Le ho tutte Le ho Le ho tutte Però quella che mi serve Non la trovo A meno che Non l'abbia messo No qua è impossibile Per uno Questa è bella Potere della T Cosa mi dice Che è di là Vediamo dove Di là esattamente Mi dice che è qui E non l'ho visto E continua a dirmi La caccia Sono un po' Stranito Perché io sono sicuro Di avercelo avuto A meno che Non l'abbia buttato Vabbè Come si fa Sto coso Vediamo un po' Come si fa Con questo Ma non so cosa sia Il World's Mutation Questo qui Lo fai Con la botania Ecco qui Eh vabbè È facile allora Il sapling normale Tanti saluti Se è solo questo Vai Andiamo La nostra botania Ci viene in aiuto Ok Andiamo pure Così corriamo Eh sì Con la botania Risorgiamo ogni problema No questo No questo E questo Perfetto Oh vedete Andiamo pure E andiamo a farlo Un pochino E allora Andiamo a fare Eh Cosa devo fare Mi sono già ascoltato Eh Sì Ok Andiamo pure fuori Però è strano Perché io ce l'avevo Quello lì Oh Forse l'ho messo da piantare Bah non mi ricordo Va bene Non importa Inutile piangere Sul latte macchiato Eh Facciamo pure questa cosa Qui Così Oh cavoli Eh Foglio alla mano No Facciamo direttamente così Tanti saluti al pifero Vediamo cosa mi hai dato Un casso Perfetto Ottimo Mamma mia Che cattiveria Me l'hai dato Oh Fantastico Bene Sono contento Ci hai messo una vita Però me l'hai dato Rampiamo l'albero Dei desideri E adesso vediamo Cosa ci serve Ancora Lo Shaded Garden Vediamo un po' Oddio mi hai fatto prendere un colpo Allora Shaded Garden Vediamo un po' Sono scritto bene Miraculo Lo vuoi sul Dark Oak Leaves Aspetta che te ti devo togli C'è un cappello da panico Questo come lo faccio Con No Questo lo duplica Questo Ah Dark Oak Seping Somiglia molto a quello che avevo di là Vediamo un po' se è vero Quindi andiamo a cercare Era qua No Non era qua Era qua Si Dark Oak Seping Lo ho detto in una lingua strana Ma si Ok andiamo pure A farlo E vediamo cosa esce Vediamo che mi dia dei sapling Perché sennò Non so come fare Andiamo un po' Mamma mia Sei stato esoso Che Occidenti a te Però Non è giusto Allora Mi metto un altro po' C'è una bug da panico Nell'inventario Allora Andiamo un po' Un attimo qua Andiamo dalla bug da panico Ecco guarda 25 Mi ha dato un sacco Scusate Ma mi sto perdendo Un attimo Queste qui mi servono E devo andare a prendere Un po' di bone meal Perché Qui mi serve assolutamente Di fare Un po' di qualcosa Qui ormai ce ne ho così tanto Di quello Che posso usare Con uno stack Se ne frega Tanto ne ho Una marea Grazie a Silent Jam Con l'apatite Si possono fare Dei blocchi da panico Di costruzioni Sono bellissimi Sia con gli shard Che con Gli interi pezzi Vediamo un po' Se non cresce C'è qualcosa che non va C'è qualcosa che non va Perché non è possibile Che non cresca Questo può crescere Solo a 4 Lo posso duplicare Vediamo un po' Vediamo se con la botagna Ci viene in aiuto La botagna Non è il Se è il coso La botagna Ecco qua No Questo me lo fai diventare uguale Porca miseria E io come faccio Mi devo prendere 4 per volta Ma se è brutto e cattivo Lo sai Accidenti a te Eh vabbè Andiamo a prendere 4 Questo cresce solo 4 Insieme alla volta E quindi Si Me l'ho confuso Con quell'altro Che cresce da solo 4 Ok Ritorniamo là Mana si è messi bene Dai Andiamo bene Meno male che mi sono messo Mi sono portato avanti Un pochino Sono passati tanti giorni di gioco Sono passati tanti giorni di gioco E dove sei? Qua No Questo mi da quello Come lo vedevo questo? Scusate ragazzi Ma mi devo Un attimo Guardare Ah da questi Da questi brutto animalo Eh vabbè Io ce li ho Non importa Adesso andiamo via E quindi da questi Sì Vabbè Non importa Dai Si fa lo stesso Mi prende per il culo Evidentemente Mi prende per il culo Ok Adesso ne abbiamo 4 Mi ho preso un colpo Andiamo pure Avanti Ok Questi li tengo da parte Perché non si sa mai Questo ce l'ho Non è un problema Eh sapling vari Li mettiamo qua Vai Questo Questo E questo Che tanto ce l'avevo E andiamo pure avanti Adesso se ne i 4 Non devi rompermi Le scatole Ne i 4 Devi funzionare Ok Ho perso un petto Scusate Ho perso un petto Di cuffia Questo Ecco qua Adesso dovresti andare Oh la miseria Mi hai fatto prendere Un cavolo di colpo Alberone gigante Accidenti a te Di questo Passo Facciamo prima Mi hai dato delle miele Mi hai dato delle miele Non mi hai dato niente Sei brutto e cattivo Mi hai dato quanto serve Meno male No perché sapete Qui di far tutto da capo Non è che Forse proprio La mia ambizione Più grande Allora Facciamo di nuovo 4 E andiamo di potenza Oh la miseria Mi fai prendere Sempre dei colpi Esagerati Ok Andiamo così E adesso mi hai dato Quello che mi serviva Grande così Sei stato bravissimo Ci hai messo un pochino Eh però Si va bene Madonna quanto tronco ti da Eh vabbè Sono 4 Dopo tutto È normale Ho tanti tronchi Eh Parecchi Sarebbe meglio Che adesso Andassi un attimo A cuocerli Così almeno Faccio un po' di carbono Non sembra Anche a voi Che sia meglio così Trovo un qualcosa Libro Sì Ok 64 Grazie Questo lì Non è libero Non è libero Questo è libero Dove sei? Uh Molto Molto Casinato Qui Ok così Andiamo avanti così Li facciamo tutti E tanti saluti Se no Ci metto veramente una vita Ne ho troppi Questo Facciamo così Questo facciamo così Siamo appunto tranquilli Abbiamo fatti tutti Ok andiamo Va bene Cosa devo fare? Quella dopo Logicamente Ma che discorsi Questo lo so già Si fa con quello normale Soggy Garden Si fa con quello normalo Adesso andiamo qua E si fa con quello normalo Ecco qui Quello normale Questa la mangio Perché ho già tanta fame No non è vero Non ho più niente fame E andiamo a fare quello normalo Eccoci qui Allora Dammi quello normalo Che ho famo Di quello normalo Ecco qua Questo ho la mano Non mangio niente Perché non ho fame Ci identi a te Dai Fa cresci qualcosa Ok È cresciuto Vediamo Non mi hai dato un casso E vai Mi piace così Allora Bravo Così mangi Allora Mi hai dato qualcosa Ma per la gloria del niente Non mi hai dato nulla Questo lo mettiamo via Così almeno vedo Che cresce qualcosa Mamma mia Riproviamoci Qualcosa mi hai dato Un casso Perfetto Andiamo avanti Scirà prima o poi qualcosa E poi quello di diamante Se avessi quello Legno È in legno Allora In quello Vediamo così Mi hai dato Non mi hai dato un casso Complimenti Devo rifarmene un altro Ne avevo fatti due Gli ho usati tutti due No no Non ne ho usati tutti due Ok Non mi devo rifare niente Allora I sapling ce li ho Però se tu mi facessi crescere qualcosa Non è che mi farebbe proprio schifo schifo Però sai Proprio uno ci prova Ecco qua Madonna quanti mostri escono Con lo spawner È veramente efficiente E non ho usato neanche la droppovivo Per dirne una Perfetto Allora Ok Non so cosa stesse facendo Ma non mi ha dato ancora niente Incredibile Porca miseria Ok vediamo Oh me l'ha dato Me l'ha dato ragazzi Me l'ha dato Me l'ha dato La mela sono in mano Quindi sì A posto Così Mangiamo Ma quanto mi dà la mela Mamma mia Mi ha proprio saziato Accidenti a lei Uh Facciamo anche così Così siamo a posto Mangiamo questo Che almeno questo ci sazia Ok grazie Molto gentilo Quindi abbiamo fatto anche questa Bene Adesso vediamo cosa ci dice Dopo Ci dice il Tropican Garden Ma adesso il Tropican Garden Come lo facciamo Scusate ho spinto due volte Tropican Eccolo qui Questo qui si farà con 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 questo Ma questo io ce l'ho Questo io ce l'ho Ce l'ho tanto anche Oddio quanto ne ho preso Sì Adesso me lo devi dare però Facciamo così Perché non è che mi fidi molto Tac Tac Che deve essere più forte sull'albero No dimmi dire No che mi tocca prendere là Il Sapling Se no Allora Andiamo un po' No Non cresce niente Non esce niente Però a volte ti da Se mi desse il Sapling Facciamo che Facciamo così Perché io il Sapling Lo voglio Così almeno Non devo andare a rompere Il Bonsai Millie Come si chiama Vediamo un po' Se riesco a prendere un po' Di più Ok Andiamo così Sapling Non mi ha dato il Sapling E non mi sta dando niente Molto brutta la cosa Mi scoccia un casino Allora Provo un altro po' E poi al massimo vado A rompere col Bonsai Però Mi scoccia parecchio Mi scoccia Wanda Grazie Molta gentila Ok Andiamo a vedere così Se neanche così viene Qualcosa mi ha dato Me l'ha dato Me l'ha dato Non mi ha dato il Sapling Jungle Sapling Era quello di prima No E' quello nuovo Perfetto Fantastico Mi hai dato tutto Sono soddisfattissimo Quindi andiamo qui L'albero delle banane E pronto Cosa tolgo Questo Che tanto ne ho troppo E siamo a posto Oh l'albero delle banane È fatto E qua Siamo andati Avanti Mi sta finendo parecchio Vediamo cosa mi dice La cresta Di fare il Windy Garden Il Windy Garden Così a occhio Non lo saprei cosa sia Windy Con cosa lo vuoi? Il Birch Uff c'è il Birch Oh Birci Come ti faccio Birci? Vediamo un po' Oh posso fare con questo? Facile Con qualsiasi Sapling Se no Con cosa? No Non posso farti con nient'altro Sì Con lo Spruce Lo Spruce E' molto più economico Lo Spruce Visto che Uno Non tre Ok Andiamo pure avanti Botania Cara Botania Venici in aiuto Oddio Mi hai fatto prendere un colpo Cioè Questa non l'ho capita Cioè Prima ti ammazzavo A mani nude Ma questa poi Non capisco se a volte c'è un bonus o no Perché a volte a mani nude Gli spacco il culo in quattro parti E a volte ci vuole tre ore Ok Sì Così Vai Bello mio dorato Andiamo avanti Gli ho presi tutti gli alberi Eh Non ne ha mancato uno Eh vabbè Andiamo pure a prenderli Vediamo un po' Il berce mi piace perché è bianco È soffice Non è soffice È un legno Però sì Ecco qua Questo facciamo così E siamo a posto Ok Vai così E vai così Ecco qua Adesso possiamo provarci Me l'hai dato? Non mi hai dato un casso Vero? No me l'hai dato Allora Poi mi hai dato un altro sapling Eh meglio di niente Sicuramente Eh Ok Adesso abbiamo il labbero bianco Eh Mi vorrei fare un bonsai con questo Lo sapete E non mi dispiace affatto Se mi rimane Perché potrebbe anche non rimanere Un sapling che me l'ha dato Sì Non me l'hai dato Vero? Non mi sembra di vederlo Come è fatto così Quindi no Non ce l'ho Riproviamoci Eh ma qui Mi sta finendo il grandstone Non so anche se basta Quanto Oh Aspetta eh Mi è rimasto 18 18 forse ce la faccio Dai Mi è rimasto un altro sapling Beh è andata bene Dai Qui Ok E qua Perfetto Me l'hai dato? Col casso Grazie Devo andare a rifare Eh vabbè Pazienza Pazienza Rifacciamo Diamante tante qua Ne abbiamo abbastanza Ce ne vogliono due Però Non importa Perché con uno fai la guanda Giustamente Con due devi fare questo Devono fare una recipe diversa Se no andavi in conflitto Allora Vediamo un po' Eccoci qua Vai Mi hai dato qualcosa? Qualcosa l'hai dato? Però non mi hai dato Quello che mi serviva No Non lo vedo Eh vabbè Riformiamo da capo Comunque adesso sei sapling Siamo a pasto Siamo a pasto Vediamo un po' Qua Grazie Molto gentilo Ok Grazie Vediamo un po' Me ne hai dato? Non mi hai dato un casso Non mi hai dato un casso È dura 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 parecchio Perché è una percentuale Troppo bassa In effetti Sì È quello del problema Ma no così Con questo volevo dire Dai forza Ok adesso Mi sento come lo dà Sento come lo dà Sento come lo dà Non mi ha dato un casso Vabbè Riproviamoci Sto facendo un minus stack di log Quanti ne ho fatti? 29 Va bene Proviamo di nuovo Salve No eh Proprio Non ti sto simpatico oggi Va bene Proviamo con quest'altro Magari con questo abbiamo più fortuna Mi sento che stavolta esce È uscito proprio nel senso Che è dato a farsi un giro Perché non c'è niente qui Porca miseria Porca miseria No mi ha usato l'usura Della wand Sei un animalo Ok Riproviamoci Vediamo se stavolta Aia non in faccia Possibilmente Oh Qui qualcosa Mi ha dato qualcosa Non c'è Non c'è niente da fare Va bene Riproviamoci È stressante Lo sapete Perché In realtà non è difficile È soltanto noioso Ok Riproviamoci Poi uscirà Gli altri sono usciti però Perché te sei così noioso Sei bello È carino Però sei noioso Allora Riproviamoci Eh ma perché si trapo poco Cos'è Oh Ce l'ho fatta ragazzi Ce l'ho fatta Dai Forza Fammi salire Ok Sono contento Di avercela fatta Perfetto Adesso rompo il berce E dopo farò da solo il bonsai Perché mi piace troppo questo Mi fa piacere Un bonsai Quasi quasi Posso già romperlo E metterlo No Adesso dopo Oddio Ho fatto proprio un colpo Quindi andiamo a consigliare la cresta No Non dobbiamo andare a consigliare Non c'è uno mino Insomma Dobbiamo solo fare così Clemiamo E Cosa ci facciamo Questi cosi No Si piantano No Perché non ho capito Mmm Bello Lo posso pintare Mmm Interessante E non lo posso piantare Non lo posso piantare Lo posso piantare Cosa succede se lo pianto? Niente Perché non posso neanche Bello No E adesso? Winter Quash Winter Quash Non so cosa sia È una pianta Va bene Andiamo avanti Perché probabilmente ce lo dice Dice Garden Quando rotto Da una differenta pianta I leaves Del grind Must Provenienti dal tree Non bisogna romperli E piazzarli Fantastico Una figura di merda Così non la facevo da anni Va bene Andiamo pure avanti Io adesso Direi che Mi guardo un po' la mod E mi rifaccio Il berce Perché E questo qua Perché Dopo sta figura di merda Penso che possiamo chiudere il video Eh si Lo possiamo chiudere Cercherò In qualche modo Di farmi un altro Vediamo se me l'hai dato Si Me l'hai dato E questo quindi Meno male Perché mi ero preoccupato Va bene Meno male Dai Ragazzi Io direi che Per questo video è tutto Così abbiamo visto un po' di cose Ho fatto un po' di cose Almeno io le ho fatte Sono abbastanza soddisfatto Perché anche se la base Non è proprio una chicca Di quelle proprio Però mi piace È funzionale Funziona Adesso mi metto a fare un altro Coso Della cosa del coso Belli Non vedevo l'ora di averli Questi sapete Proprio stupendi Mi metto a fare le mie cose Un altro di quelli E niente Io direi che Ci possiamo salutare qua Per questo video è tutto Vi invito a lasciare un like Un commento Per farmi sapere un po' la vostra E niente Tutto qua Per adesso vi do un saluto Ciao ciao